Ciao a tutti biscottini, oggi andiamo a fare un altro video del tipo prodotti consigliati low cost quindi andiamo subito a vedere il primo prodotto il primo prodotto è Conad e sono i florini con riso e latte allora, prevettendo che io adoro i biscotti con la farina di riso questa tipologia qui c'è di diverse marche ma questi qui Conad mi sono piaciuti particolarmente cioè li adoro proprio, hanno un sapore molto delicato ma non scontato ma molto buoni, insomma ve li consiglio costano, scontati stavano a 1 euro ma non scontati 1 euro, cioè non arrivano neanche a 2 euro poi il prodotto dell'MD sono della marca Cucina e Sapori le bruschette angusto pizza cioè vi giuro che queste, con pomodoro e origano vi giuro che queste sono una droga, peggio delle patatine cioè se io mi metto a mangiarle ho paura perché non mi fermo più cioè è una cosa allucinante e li adoro veramente sempre all'MD avete presente i famosi biscotti birillo, quei due biscotti rotondi ripieni di cherma al cacao? ecco, della marca Le Bon, i Fourre Cacao sono dei simi il birillo sono 500 grammi, costano neanche questi, anche questi neanche 2 euro cioè sono tanti comunque 500 grammi cioè rispetto ai birillo costano, costano la metà circa cioè li adoro sono buonissimi, non hanno niente da invitare al birillo e vi consiglio perché sono, sono golosissimi sempre dell'MD, sono della marca La Fattoria i biustel al formaggio con pollo veramente sono dei biustel di pollo ripieni al formaggio cioè io li adoro, sono 3 150 grammi, costano 80 centesimi siamo lì insomma anzi, li ho pagati anche meno scontati andate a controllare che ogni settimana tipo ci sono ogni 2 settimane degli sconti diversi all'MD e sono ottimi, io li adoro mi piacciono proprio tanto e saziano anche abbastanza comunque c'è il formaggio dentro ecco li qua un altro prodotto dell'MD della marca Malga Paradiso un facsimile degli yogurt Müller Mix quelli con le palline, il cioccolato, i wafer questi in particolare sono lo yogurt mix bianco con anelli al cioccolato che devo dire, io adoro quelli della Müller sono buonissimi però anche questa tipologia qui della Malga Paradiso sono molto buoni soprattutto questa qui con le anellini ricoperti di cioccolato gli anellini al cioccolato cioè sono ottimi io mi piacciono tantissimo costano 70-80 centesimi neanche 1 euro, sono molto buoni costano meno di Müller quindi se vi piace mangiare questa tipologia e li comprate spesso ve li consiglio questi erano i prodotti per questa volta siccome la tipologia di video ho visto che vi interessa e vi piace io con piacere continuerò a farli sia per presentarvi dei prodotti che magari non conoscete e per consigliarveli e soprattutto per consigliarvi dei prodotti per risparmiare perché insomma oggigiorno ce ne è bisogno spero che il video vi sia piaciuto e che vi tornerà utile fatelo sapere con un commento qui sotto un bacione alla prossima ciao ok spero che il video vi piaccia vi è vi sia